L'idea di creare un momento di scambio di idee annuale e di coagulare gli specialisti, i pazienti, gli associati, i membri, gli interessati a questa associazione è stato da qualche anno a questa parte giudicato come un momento importante per fare il punto della situazione dal punto di vista della programmazione delle attività sia dell'associazione sia per fare un update dello statuto dell'arte di questa malattia, dei grandi movimenti che stanno attorno all'uso di nuovi farmaci, di nuove modalità di trattamento che coinvolgono in modo trasversale varie discipline e quindi è un modo secondo me, secondo noi, estremamente importante per tracciare una linea su quello che è stato fatto e quello che è in programma per essere fatto nell'anno successivo. Quindi gli anni precedenti sono stati degli anni di successo, dei meeting di successo, molto ben frequentati, con degli ottimi feedback e crediamo in assoluto che anche quest'anno lo sia e lo sia ancora di più. Sono molto felice di poter essere per il secondo anno consecutivo il responsabile scientifico di questo congresso, mi fa molto onore. È un congresso che è volto di fatto ad avere la presenza dei pazienti, la presenza dei medici senza essere esclusivamente un congresso scientifico. Le novità quest'anno sono tante, sicuramente riguardano la malattia prevalentemente localizzata, quindi partiamo sicuramente dalla diagnosi di questa malattia, quindi con tutto un concetto di nuovi biomarcatori che vediamo per esempio con gli anatomopatologi e che indirizzeranno sempre di più in futuro dei trattamenti molto orientati per singolo paziente. C'è tutto un aspetto che riguarda la malattia superficiale che poi è il grosso della malattia che presenta i nostri pazienti, quindi con nuovi farmaci non solo immunoterapici che si affacciano in questi contesti sempre di più affiancando il ruolo dell'urologo e infine per la malattia invece più avanzata, cioè muscoli infiltranti con anche qua moltissime novità che i congressi scientifici di quest'anno ci hanno mostrato. Ecco sicuramente l'interesse è quello di creare e di dare delle nuove aspettative e coinvolgendo i pazienti spiegando soprattutto quali sono le nuove opportunità di trattamento, quindi sia in studi clinici sia ovviamente nella pratica di tutti i giorni e quindi sicuramente la presenza del paziente è fondamentale. Esiste infatti poi nella parte finale del congresso tutta una parte, una sfera di interventi che riguarda proprio la qualità di vita e che effettivamente è rivolta ad avere una partecipazione diretta del paziente nelle questioni che poi lo riguardano tutti i giorni. Questo secondo me è fondamentale e la peculiarità di questo congresso è proprio quella, avvicinare tantissimo i pazienti al medico togliendone le barriere.